La neve non vuole smettere di cadere. Nuove precipitazioni sono in arrivo dopo i fiocchi scesi nelle ultime 24 ore che hanno imbiancato la provincia di Lecco. La sala operativa della protezione civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità, codice giallo, per rischio neve su tutta la regione a partire dalla mezzanotte. A causa del passaggio di una nuova veloce perturbazione, infatti, dal mattino e fino alla sera di domani, 2 marzo, saranno possibili altre nevicate. I fenomeni interesseranno inizialmente tutte le quote, poi sarà possibile un passaggio a pioggia o pioggia mista a neve. In pianura previsti 10 cm di coltre, 15 sulle prealpi. La protezione civile mette in guardia dal rischio gelicidio, la pioggia che gela istantaneamente al contatto con il suolo. Anche sabato sono previste possibili deboli nevicate, specie al mattino. Le temperature sono però destinate ad alzarsi. Nonostante l'ondata di gelo che ha investito la città e le nevicate che ancora stanno interessando in maniera importante il nostro territorio, grazie anche al lavoro degli otto mezzi spalaneve e spargisale dispiegati in tutte le zone della città, abbiamo evitato gravi criticità di tipo viabilistico collegate alle condizioni atmosferiche, sottolinea l'assessore alla viabilità del comune di Lecco Corrado Valsecchi. I trasporti pubblici cittadini hanno potuto garantire il servizio in maniera regolare e scuole e luoghi di lavoro sono rimasti raggiungibili e accessibili. I problemi potrebbero tuttavia riguardare i camminamenti pedonali. Per questo motivo il comune chiede ancora una volta la collaborazione di tutti i frontisti affinché provvedano alla pulizia dei marciapiedi, così come previsto dalle norme vigenti, anche in previsione di una possibile intensificazione delle precipitazioni prevista per domani.